Dopo la passerella collettiva di martedì sera in Piazza del Popolo, la VL continua ad approfondire la conoscenza del suo nutrito gruppo italiano al timone della prossima Serie A2. Questa mattina presso il ristorante La Vela, il 31enne torinese Eric Lombardi, reduce dall'esperienza Brindisi, e il 26enne toscano ex Cantù Lorenzo Buccarelli hanno esternato impressioni e sensazioni di quello che è stato finora il lavoro affrontato in precampionato e di quale stagione attenderà il basket bianco-rosso. Mi ha scelto venire qua perché ho spostato il progetto, ho spostato anche il fatto di trovare un mio ex allenatore che è Pino Sacripanti con cui ho già vinto un campionato che è stato quello di Napoli, anche europeo quando ero più piccolino, quindi anche perché la piazza è una piazza storica, l'anno scorso noi ci siamo incrociati, abbiamo fatto tutti e due la stessa fine, però merita comunque di trovare la massima serie. Sicuramente sarà una stagione lunghissima, quindi fare pronostici anche difficili, avendo l'esperienza degli anni passati che non sempre la squadra ha pronosticato a vincere e poi vince il campionato, quindi dovremo affrontare partita per partita, concentrarsi su mini obiettivi a breve e medio termine per poi costruire qualcosa di importante giorno per giorno. Il campionato è lungo, è difficile e sicuramente ci impegnerà nel primo mese tantissime partite, quindi ci devi lavorare tanto, molto, soprattutto di spronare anche i ragazzi più giovani così a lavorare, lavorare e a fare una mentalità vincente. Secondo me il fattore chiave è non farsi troppo trasportare dai momenti sia in positivo che in negativo che ci saranno durante l'anno, perché alla fine vince chi riesce a tenere la barra dritta sia nei momenti quando le cose vanno tutto bene, e quindi non farsi trasportare troppo dall'entusiasmo e l'euforia e sia quando ci saranno momenti brutti di qualche sconfitta così non farsi tirare giù nel vortice della negatività, quindi tenere sempre un atteggiamento positivo e lavorare per far sì che provi che duri il più a lungo possibile. Parole d'ordine, impegno, equilibrio ma anche compattezza fra squadra e città. Sono belli carichi, questa cosa mi piace perché questa carica, questa energia sarà per noi molto utile sia al palazzetto che anche fuori, è il nostro stesso uomo, quindi rimaniamo così tutti quanti con questa carica energia.